Un boato e poi le fiamme, così la scorsa notte intorno alle 4 è andata completamente distrutta la farmacia Nuvoloni di Corso Martiri della Libertà a Rivaligure di proprietà dell'ex sindaco della cittadina. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo sono per fortuna riusciti a contenere il rogo e limitare i danni al locale commerciale. Le cause dello scoppio sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ma appare ormai praticamente certa la matrice dolosa del gesto. Il sindaco di Rivaligure, Giorgio Giuffra, si è detto preoccupato di quanto accaduto e ha auspicato che le forze dell'ordine possano quanto prima individuare i responsabili di questo atto criminale e assicurarli alla giustizia. Queste mattine i tecnici di un'impresa privata hanno intanto iniziato la rimozione dei detriti causati dall'esplosione dal fuoco.